buona allora ragazzi per gli amanti di tutankhamon che parecchi di loro mi hanno chiesto quando terminavo le due sculture eccole qua completate diciamo che sono due gemelle sono due sculture in cui l'artista che sarei io fa vedere una prima maschera che sarebbe questa in cui diciamo è una fase di ristrutturazione quindi ancora piena di sabbia come vedete la tabia è presente da tutte le parti con questi tocchi magici del colore della tabia che lascia anche quel certo brillantino maschere sono tutte quante fatte in resina ok quindi questa prima fase l'artista sta tirando fuori la nostra maschera quindi la strada ristrutturando nella seconda fase ho voluto lasciare le mani perché l'artista ha praticamente terminato il suo lavoro ma resta ancora qualcosa sul tavolo da lavoro vedete sono usciti poi tutti i colori blu è stato cambiato con un bel blu più vedete qui era tutto da ristrutturare e qua è uscito tutto ristrutturato quindi guardate la differenza ok ma allora le potete trovare su art maier quindi dopo nel nel nei commenti metterò in descrizione il link dove voi potete anche acquistarle quindi ciao ciao a tutti paolo orlando bricolage della vita tutankamon masch